Ciao, ciao a tutti, come state? Bentrovati sul mio canale, veri ASMR. Per chi non mi conoscesse, io sono Federica e quello che state per guardare è un nuovo video ASMR, spero rilassante. Si tratta di una challenge, quindi di una sfida, che è stata ideata da Velia del canale Black Moon ASMR, che saluto. Ciao Velia! E questa sfida difficilissima consiste nel realizzare un video ASMR senza usare gli auricolari e proponendovi un solo trigger, che nel mio caso, ve lo faccio vedere tra poco, in più, è vietato fare troppi tagli nel video, quindi proverò a rilassarvi così, spero di riuscirci. Mi raccomando, fatemi sapere se sono riuscita nell'intento e se il video vi piace, tramite un mi piace. E iscrivetevi naturalmente al canale, se non lo avete ancora fatto, cliccando la campanellina, per non perdere i prossimi video rilassanti. Bene, adesso vi mostro il trigger che ho scelto per questo video e nel frattempo vi dico le persone che ho deciso di taggare a mia volta, che spero vogliano riproporre questa challenge sui loro canali. Indossate il cuffio, mi raccomando, e iniziamo! Allora, per questo video, taggo Debe ASMR, ASMR Sara e Lori ASMR. E questo è il trigger che ho scelto, si tratta dei campanellini fatati, che mi ha regalato Priscilla, del canale Priscilla ASMR. C'è un nostro video sul suo canale, che forse non avete ancora visto, non lo so, ve lo lascio già in descrizione nel caso. E' davvero una sfida utilizzare questi, perché fanno un suono molto particolare, ma che deve essere ben gestito. E siccome anche in quel video ho realizzato con Priscilla, mi è piaciuto l'effetto, nonostante non avessi gli auricolari. Adesso ce li provo. Una cosa, voglio farvi vedere la mia maglietta, è una maglietta di pampling, e come al solito vi ricordo che con il codice ELFETTI potrete ottenere uno sconto se volete acquistarne uno uguale. Seguendo il link, che si trova giù, in descrizione, provo ad alzarmi per farvelo vedere. 2020, written by Stephen King, ovviamente si riferisce a tutto quello che è accaduto in quest'anno. Stranissimo, spero che il periodo negativo sia quasi finito. A parte tutto, per voi come è stato quest'anno? Finora? Spero che siano successe anche cose positive, insomma. Per me è stato così. Nuovi progetti. L'agenda ASMR. Che bello. Spero che l'abbiate già preordinata. Vi lascio sempre giù in descrizione il link per farlo, se non l'avete ancora fatto. Ricordo che si tratta del primo diario ASMR, primo e unico, con tanti contenuti ASMR rilassanti. È un diario interattivo. Per me, la mia storia. Vedrete. Qui c'è un taglio, perché è passata un'automobile. ovviamente fare il preordine vi garantisce anche diversi vantaggi come poter scegliere la copertina il ricevere una traccia audio smr bonus e anche una dedica firmata sull'agenda adesso faccio un po' di silenzio e vi lascio ascoltare questi campanelli fatati pensate a qualcosa di bello? questi sono davvero il richiamo delle fate un po' di silenzio 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 esprimi un po' di silenzio esprimi un desiderio e poi chiamano vado il tuo desiderio si ammirerà un po' di silenzio 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.